180 milioni di euro, circa il 10% del piano nazionale complementare per le aree del sisma, che ammonta 1,8 miliardi di euro. Sono gli interventi destinati alle quattro regioni colpite dai due terremoti della sub-misura B2, turismo, cultura, sport e inclusione del PNRR. Nella sede della Camera di Commercio del Gran Sasso si è tenuto un momento di confronto. Union Camere gestisce gli incentivi e i bandi per le imprese di turismo, cultura, sport e inclusione previsti dal fondo complementare. Le Camere di Commercio a livello territoriale avranno invece il compito di promuovere tali strumenti nei confronti del sistema imprenditoriale per sostenere e facilitare la partecipazione delle imprese ai bandi. La sinergia con Union Camere è partita proprio dall'Aquila. Saremo effettivamente un po' da facilitatori, ecco questo è il nostro ruolo, per portare a conoscenza le amministrazioni ed anche le imprese su come meglio gestire questi bandi, però i bandi saranno gestiti da Union Camere, che come sapete è casa madre per le Camere di Commercio. Quindi comunque abbiamo un ruolo molto importante. Parliamo comunque di un plafond di 180 milioni di euro che verranno destinati, sono già destinati a tutte le regioni e le aree del cratere sismico, sia 2009 che 2016. Quindi ovviamente il territorio di L'Aquila e Teramo è praticamente, ahimè, il protagonista di questa importante misura e quindi noi ci muoveremo per quanto di competenza. Ha preso parte all'incontro il commissario Giovanni Legnini. La misura B in particolare prevede ben 700 milioni. I fondi sono gestiti sia da Union Camere che in Vitalia. Legnini si è detto molto soddisfatto del lavoro che si sta portando avanti. 700 milioni di euro sono quelle risorse destinate alle misure per lo sviluppo, per l'impresa, per il sociale, per la cultura, per il turismo. Di questi 80 milioni sono andati ai 5 centri di ricerca e di innovazione che si nasceranno, un fatto molto importante in questi territori. e aggiungiamo circa 70 milioni per le comunità energetiche. Quindi in sostanza tutti i bandi, compreso quello sulle energie rinnovabili che varieremo a breve, contengono una risorsa per le quattro regioni di 700 milioni di euro, che è una risorsa molto importante, che produce un effetto leva importante per nuovi investimenti. Grazie.